Musica Rieccoci puntata 635 di Gente che parla venerdì 19 ottobre. Rieccoci in studio con un altro ospite, anzi una ospite, Rosalba Nattero di Eco Spirituality Foundation Lab Graal. Adesso noi faremo un discorso un po' particolare, cioè parleremo di due appuntamenti importanti nella storia di Eco Spirituality Foundation, due appuntamenti recenti e che in un qualche modo hanno caratteristiche diciamo molto diverse, ma che ci inducono ad affrontare argomenti anche molto importanti. Allora che c'entra, lo leggete nel titolo, che c'entrano gli astronauti, se tra l'altro le immagini sono pronte, le vediamo, con la vostra attività? Beh, intanto io faccio parte dell'Ap Graal, quindi sono essenzialmente musicista, ma faccio parte anche della Eco Spirituality Foundation, che è un'organizzazione in stato consultativo con l'ONU, che si occupa di eco spiritualità e di molti argomenti, tra cui appunto il rapporto con lo spazio anche, per cui abbiamo avuto l'occasione con la nostra rivista di far parte di un evento eccezionale, cioè l'incontro di sei astronauti al CERN di Ginevra, a cui eravamo invitati insieme ad altri giornalisti alla conferenza stampa, ed è stato un evento abbastanza eccezionale, anzi direi unico. Questi sei astronauti erano lì per celebrare il successo di una missione iniziata proprio con il CERN di Ginevra, che era quello di piazzare uno strumento che è l'Alpha Magnetic Spectrometer, uno strumento che indaga sull'antimateria e sulla materia oscura, e questo l'hanno fatto proprio in... Qui ci sono le immagini... Sì, qua ci sono le immagini della conferenza stampa, e questa giornata è stata molto particolare, molto celebrata anche, perché i sei astronauti, persone devo dire squisite, non si sono negate a tutta una serie di confronti, per cui è stata una giornata molto particolare. Ecco, da questo incontro che cosa ne avete tratto? Cioè qual è l'arricchimento? Cosa vi siete portati a casa? Quanto è stato importante, insomma, per voi? E' importante perché abbiamo visto, toccato con mano, l'umiltà di queste persone, che proprio forse perché viaggiando nello spazio si sentono talmente slegate dalle cose così quotidiane e anche misere molte volte del pianeta Terra, sentendosi così slegate sono talmente umili. Ecco, qua li vediamo mentre piantano un albero per assuggellare la missione, il successo della missione. Voi siete riusciti a parlare con loro? Sì, certo. Che domande gli avete posto? Io ho posto delle domande soprattutto a uno degli astronauti perché sapevo che aveva partecipato a un film di Star Trek e anche alla serie Enterprise e allora gli ho chiesto perché aveva partecipato. Lui mi ha detto che si è sentito molto fiero e anche divertito del fatto di interpretare un astronauta quando lui è un astronauta, quindi interpretava un viaggio nello spazio sapendo che lui viaggia davvero nello spazio. Poi gli ho anche chiesto se credeva negli UFO o se ne aveva mai visto uno e lui mi ha detto no, purtroppo non ne ho mai visto uno però penso che man mano che andremo avanti in questa esplorazione spaziale vedremo delle cose incredibili, quindi mi ha fatto capire che crede negli UFO ed è convinto che esistano. Vedremo. Vedremo. Tutto insomma sarebbe un modo per riuscire ad approfondire la nostra conoscenza dell'universo, cioè scoprire che effettivamente esistono gli UFO potrebbe voler dire molto, che esiste un qualcosa diverso da noi. Penso sia abbastanza innegabile che l'universo è talmente vasto, ci sono talmente tanti pianeti con le stesse caratteristiche della Terra che sarebbe un po' strano pensare che non esista qualche altra forma di civiltà. Sì, se non sono UFO potrebbero essere abitanti di qualche altro pianeta che arriveranno da noi. Aspettiamo e vedremo. Vedremo. Magari ci sono già. Allora, dicevamo, un titolo un po' anomalo che suscita indubbiamente la curiosità di chi ci sta guardando da casa, astronauti e popoli indigeni. In realtà, popoli indigeni rimanda alla vostra missione, alla missione dell'Eco Spirituality Foundation. Esattamente. Sì, l'Eco Spirituality Foundation cura almeno sei casi, perché io e Giancarlo Barbadoro siamo delegati ONU e rappresentanti di sei comunità native di tutti i continenti. La particolarità dell'Eco Spirituality Foundation è quella di occuparsi della difesa delle tradizioni e dei luoghi sacri, dei popoli nativi. I popoli nativi, i popoli indigeni sono una realtà importante, perché fanno parte addirittura del 30% dell'umanità. Però sono popoli invisibili, tutti quanti con le loro tradizioni peculiari, ma sembra che non esistano. A volte si ha l'idea che siano dei primitivi. È assolutamente sbagliata questa idea. Ecco, qua vediamo Giancarlo Barbadoro, che è il fondatore dell'Eco Spirituality Foundation. Ed è una seduta all'ONU, a cui abbiamo partecipato, partecipiamo ogni anno. Anche perché c'è stata una carta dei diritti che è stata approvata dall'ONU e ora bisogna che gli stati la applichino. Per cui ci sono queste, per fortuna... Quindi è stato compiuto solo il primo passaggio. Sì, infatti, c'è stata l'approvazione, però adesso gli stati devono anche implementarla. Per questo ci sono queste sessioni annuali in cui si discute come viene applicata la carta dei diritti. Hanno dei problemi notevoli, perché ci sono molti stati che non riconoscono assolutamente che esistano dei popoli indigeni, come ad esempio il Bangladesh, anche se sono evidenti, perché li vediamo fisicamente ogni anno. E poi ci sono anche i popoli indigeni dell'Europa. Non dimentichiamo che abbiamo delle realtà autoctone, anche in Piemonte, realtà anche molto discrete, molto... che non appariscenti, però esistono eccome. Possiamo parlare degli occitani, possiamo parlare anche delle valli di Lanzo, dove ci sono quelle che vengono... si definiscono famiglie celtiche. Quindi delle tradizioni che vanno avanti nel tempo in maniera assolutamente autoctone e discreta. Ecco, certo non possiamo spiegare, raccontare la carta dei diritti punto per punto, però possiamo cercare di capire qual è il contenuto, cioè quali sono perlomeno i diritti principali riconosciuti da questa carta. Ci sono dei diritti molto pratici, concreti, che sono il diritto alla loro terra, il diritto a praticare le loro tradizioni, cosa che fino a qualche decennio fa era addirittura negata. Ma ci sono anche dei... abbiamo inserito, proprio noi della Eco Spirituality Foundation, abbiamo inserito dei punti che ritenevamo fondamentali, che sono quelli del diritto a riconoscerli come identità morale. Cioè i popoli indigeni non sono di serie B, fanno parte della comunità umana come tutti gli altri, esattamente come quelli della società maggioritaria. Però sembra incredibile, ma questo diritto non è così scontato. E di fatti noi abbiamo inserito proprio questo nella carta dei diritti, il fatto dell'identità morale, dell'identità tradizionale di questi popoli nativi che non hanno le grandi religioni al loro interno, hanno delle loro tradizioni e anche una loro spiritualità. In quanti casi si tratta di popoli che in realtà sono stati sfruttati, che sono stati assoggettati? Praticamente tutti. Praticamente tutti. Quindi non sono riusciti a far valere i loro diritti e a portare avanti il loro patrimonio? Adesso pian pianino ci stiamo forse arrivando proprio grazie all'ONU che ha creato questi grossi forum. Però è una storia brutta, iniziata dalle colonizzazioni, iniziata con una bolla papale che decretava che per diritto divino le terre scoperte con tutto quello che c'era sopra potevano essere usate dai colonizzatori come meglio credevano. Quindi diventavano tutti schiavi ovviamente e questo è stato decretato proprio da una bolla papale del 1400. La situazione però sta protraendosi ancora, non è assolutamente risolta. Ecco, leggendo da un testo preso proprio dal vostro sito di Eco Spirituality Foundation, la dichiarazione è stata adottata dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea Generale con 143 paesi a favore e 4 contrari. Che significa? Che penso a dire che tra i contrari c'erano ad esempio gli Stati Uniti. Questi sono stati quelli che si sono opposti maggiormente ma bisogna pensare che gli Stati Uniti sono quelli che hanno maggiormente. L'Australia, gli Stati Uniti, il Canada erano gli stati che più si opponevano perché c'erano degli interessi molto grossi. Ora però l'hanno dovuta adottare, questo è successo nel 2007, quello che lei sta leggendo però al momento la cosa è stata adottata. Anche perché Obama è il premio Nobel per la pace, ci aspettiamo un atteggiamento diverso. Infatti lui ha molta attenzione per i nativi, devo dire. Ha avuto molta attenzione e continua ad averla. Ecco, poi ci sono gli assenuti, cioè quindi sono paesi che hanno voluto tenersi a metà strada. In realtà ormai con tutta la visibilità che all'ONU è stata data, tutti quanti l'hanno adottata la dichiarazione. Poi da qui ad applicarla è un'altra cosa. Ciò significa che dei miglioramenti sono stati fatti? Sì, sì, assolutamente. Dicevamo che però manca il tassello successivo, che è l'applicazione, che diventa quanto mai difficile, giusto? Assolutamente, perché lì c'è di mezzo, ci sono di mezzo anche interessi economici, appunto terreni, terre. Ad esempio io e Giancarlo Barbadoro abbiamo sostenuto il caso Mongram, che è un caso molto increscioso, di una montagna sacra degli Apaci in Arizona, dove è stato fatto un grande osservatorio astronomico con un dispiego di mezzi incredibili, milioni e milioni di dollari, a cui partecipa anche l'Italia. Gli Apaci hanno protestato sempre fin dall'inizio, ma non c'è stato finora nulla da fare, considerando che quel luogo non è adatto alle osservazioni astronomiche, quindi non si capisce questo accanimento nel voler proprio quel luogo, combinazione. Quindi sono proprio popoli inascoltati. Inascoltati, sì, invisibili. Magari raccontiamo qualche altra storiella come questa degli Apaci, che in mente delle curiosità sono un po' chicche. C'è anche un caso, sì, perché sono realtà nascoste. Un altro caso che stiamo seguendo è in Camerun. In Camerun c'è un'altra montagna sacra, in Goglituba, che è la massima montagna sacra di molti popoli africani. Questa montagna, alla sommità, è stata installata una grossa croce cattolica e una grossa statua della Madonna. Loro non la vogliono, perché loro dicono, avete già le chiese, ci sono già altri posti. Noi abbiamo i nostri luoghi sacri, vorremmo che fossero rispettati. E anche qua c'è una grossa diatriba, perché, sì, qua vediamo invece ancora la parte astronautica. Anche questo è una realtà che non si conosce, ma c'è un grosso caso che abbiamo portato all'ONU e anche il Vaticano, abbiamo discusso anche col Vaticano di questo. Quindi questo è anche un problema religioso. Assolutamente. Cioè, egemonia di vario tipo, quella economica, quella religiosa. I popoli nativi hanno una loro spiritualità e sono, anche se molto diversi tra di loro, hanno un'intesa comune su questo, perché il loro riferimento è madre terra, è la natura. E questo in tutti i popoli nativi. Il comune denominatore, quindi. Sì, sì. A prescindere. E questo, tra l'altro, è un elemento molto positivo, non le pare? Certo, perché... Perché forse noi, invece, che non dobbiamo far valere così i nostri diritti, che non apparteniamo ai popoli, come li avete chiamati... Naturali. Naturali. Non abbiamo dei comuni denominatori, e per questo forse confliggiamo tra di noi. Credo proprio di sì. E la società maggioritaria, che è quella che è stata disegnata dalle grandi religioni storiche, vediamo in che stato è in conflitto, in guerre sanguinarie. Però non dimentichiamo che anche in Europa esistono questi valori. Anche qua sono invisibili, ma esistono, ci sono. Ci sono i popoli nativi anche in Europa. Allora, dalla regia mi stanno dicendo che abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo Rosalba Nattero. Grazie a voi. Eco Spirituality Foundation Lab Graal. Grazie per essere stata con noi. Adesso chiudiamo, diamo la linea, restituiamo la linea ai nostri programmi. Mi raccomando, continuate a seguirci anche in streaming sul sito www.quartarete.tv. Alle 12 c'è l'appuntamento con l'informazione. Ma non cambiate comunque canale, perché Quarta Rete va avanti tutto il giorno, mentre gente che parla ritorna, come al solito, lunedì. Allora, un buon weekend a tutti.